La solutizzazione delle regole del mercato, una cultura dello scarto e dello spreco, che nel caso del cibo ha proporzioni inaccettabili, insieme con altri fattori, determinano miseria e sofferenza per tante famiglie. Con queste parole stamani Papa Francesco ha colto in Vaticano i rappresentanti della Col di Retti. Nel settantesimo di fondazione della Confederazione Nazionale dei Coltivatori Diretti, il Pontefice ha rimarcato la centralità del lavoro agricolo, perché l'opera di quanti coltivano la terra si presenta come una vera e propria vocazione e merita di venire riconosciuta e adeguatamente valorizzata, anche nelle concrete scelte politiche ed economiche. Altro fronte di attenzione è la custodia del creato, perché possa continuare ad essere, come Dio la vuole, fonte di vita per l'intera famiglia umana. Invitando tutti a ritrovare l'amore per la terra come madre, Papa Bergoglio non ha mancato di ricordare gli accelerati mutamenti climatici, come pure gli eventi meteorologici estremi sempre più diffusi, campanello di allarme per tutte le nazioni a collaborare in questo orizzonte. Come ci hanno insegnato i nostri nonni, a concluso, con il pane non si scherza. Il pane partecipa in qualche modo alla sacralità della vita umana e perciò non può essere trattato soltanto come una merce.